Musica E ciao ragazzi per tutti i nostri video Ben torna di qui su FIFA insieme a Napolitano No in realtà siamo con Zaghi94 Pronti per andare qui a farci qualche sfida In questa nuova serie The Ignorant Challenge Ovvero sfida di ignoranza Dove ci faremo delle partite Una sul mio canale Una sul suo canale Dove utilizzeremo ogni volta squadre diverse Squadre di diversa valutazione Quest'oggi le facciamo con le squadre da tre stelle Io uso il Deportes Tolimo Lui l'Audax italiano E siamo pronti quindi Per cercare di fare una partita Per vedere un po' queste squadrette Che vengono diciamo poco utilizzate Sapete che io ormai sono esperto in queste squadre poco utilizzate Per le squadre più scherzi di FIFA Ho deciso di fare questa serie con Zaghi94 E vabbè Avviamolo Direi che possiamo avviare E ci siamo signore e signori Pronti per questa partita Allo stadio 23.MAJ 23 mai Deportivo Tolimo contro Audax italiano Con quest'abito che c'ha Quest'abito che c'ha una voglia Che saltano addosso che io mi scherzo Mamma non vedo ora Incredibile La prima sfida La prima Ignorant Challenge Parte qui signori È top È top Siamo partiti Hai capito Partito la vita Io te lo dico Io inizio a provo tutti i diri strani Ah ok Facciamo bella Ignorant C'è Ignorant Challenge Vabbè ovviamente Non così Attenzione Metti in mezzo Non c'era nessuno Buono così Buono così Ma che sei solo Mamma che lo vedi In avanti Saltinino Se chiama questo Non ci vedo L'ha preso il palo Ha preso il palo Ma cos'è Oh mio dio Oh mio dio Ma che palla hai preso Oh Guardalo Il Messi dell'Audax Il Messi dell'Audax Holy shit È fuori È mia Al dire fuori Oh È palla eh Palla netta Eh oddio Ma dai Guardalo Guardalo come gli ha puntato la palla Guardalo Guardalo Guarda siccome Questa è Ignorant Challenge Mi fai il cucchiaio E invece no 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 Io voglio dire col portiere Ma non so come si chiama Vabbè ci dovrebbe sofferto Porre no Forse No No come no Vabbè mettere in una Cambiali tutti Perché poi lo beccherai Vabbè 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 Vai Non lo fa Che cosa è Lo sapevo Lo sapevo Che la tirava centrale Lo sapevo Sì sì Manco il barbiere Così Che cosa Che cosa è successo Così Che cosa Morto Gli hanno sparato Dalle tribune Rip Che cosa Un gollo orribile Questo eh Che tra l'altro Io cecchio L'avevo tirato Per fare testa Poi non ho più Premuto niente Ma mi ha tirato Dopo quello Ottimo così Bene This is FIFA Le dis and gentlemen Guardalo Wind and gas Wind and gas È Fratello a Wind diesel Mi verrebbe Da pensare Wind diesel Wind gas È L'opzione più economica L'impianto a gas GPL Massimiliano Perez Massimiliano Perez Addirittura Sì quindi Non come Qui quindi Non come questo Esatto Che cosa Che cosa E niente E niente Tutto a caso E niente C'è il pareggio Dell'Audax Saltininho 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 Guarda Dun avanti Quanto corre Dun avanti È lui È lui Il Messi Il Messi dell'Audax Il Messi dell'Audax Il Messi Della costiera Amalfitana Il Messi Il Messi Spacciatore di droga Sembra comunque Il nome De un farmaco L'Audax Ma dottore Dottore C'è un mal di panza Vabbè Prendi 4cc di Audax No 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 Ok Incredibile Ha provato la skill Ha provato a fare la skill Portier Mortacci 2 portier 20 anni Per Morti Ma sono morti quelli È morto Morti Morti proprio Oh Prova a crociare Oh mio dio Vabbè Cos'è Il sinistro Dell'Occidente Ecco Con la bandiera Piantata lì Poi È Tutti su PANCQUERRO Domani mattina Ma tu quando hai segnato Ah si hai segnato Addirittura Ti stava Dimentica Un attimo Che fa Quello Che ne devi Anzi No No Attenzio Attenzione No No Meno Malle Eh che Silvio C'è Meno Malle Che Silvio C'è Silvio C'è Oh Che cosa Oh Ah è angolo Eh si è vero L'ho buttato fuori Io Ma il tuo giocatore Tu sei lì per terra È fuori il gioco E' muo' è morto No ho sbagliato Ok Esci il portiere Cos'è Cos'è Cos'ha fatto Il portiere è andato in porta Saltigno Ma l'ho fatto io Il retro passaggio Ha dato il gol a te Perché Perché esultava saltinino Così da solo Ma il portiere è andato in porta Eh in teoria Quello No ma nel senso Non proprio così C'è Le regole del calcio Sono alquanto diversi Vai Torlan Oh mio dio Oh mio dio Villa Villa Maria Antonietta Ehm 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 Cosa Mi sta deludo I messi dell'audax Eh È il partito bene Dove sono le due giocate Mi serve Ecco il messi Ma ora come se ne va Dove niente Guarda come se ne va a casa Eccolo Oh Vabbè C'è tirato una scarpata Po con due Gli è partito un legamento A un fattino del genere Ecco lo Ma è mai fermato Ma che tocco Ma guardalo Che tocco Oh mio dio È mostruoso Dico Armando Dico Armando Ma mazzalo Ma non era Messi Guarda come Ma con te sta ovunque Oh mio dio Come se chiama Costui Non te lo dico Ah è vero È auta No Come chi è Chi è Lo voglio comprare S'ultimo in team Chi è Te baggi Chi è Costui Divisione 1 Easy Vinci il full Champions con uno così Oh dio Guarda la brutta copia di Ames Rodriguez Che proprio È Ames Però proprio con la A Ehm Ehm Comunque si chiama Dwin Vanti Ma che cazzino Rodriguez Oh mio dio Ma che cosa Oh mio dio Ma che cosa Che cosa Che cos'è Che tiro stato Non so se è stato Bravo lui O uscivo il portiere Forse entrambi Io ho detto Non uscirà mai Un tiro del genere Ma Però ragazzi Guardate che pubblico Che c'è Sto grande big match Come sopportano il Tolima Comunque ci crede fino alla fine Che più sono nani Più sono forti Messi E niente Lo sponsor della squadra mia Mercacentro Ma dai ma che Signori Concluderemo questo primo episodio Dell'ignorante challenge Andate un po' così a caso Ovviamente questa è la prima partita Poi ovviamente Per le prossime partite Ovviamente ci sarà Un episodio sul mio canale Un episodio su quello di Zaghi E faremo ogni volta Magari sfere diverse Magari potremmo Inventarci Come dicevo prima Di invertire la formazione Quindi mettere i difensori In attacco Di attaccati in difesa O magari Se può fare pure Magari Di segnare solo di testa O segnare solo da fuoriare Quindi magari Dobbiamo inventarci Per provare a fare cose strane Quindi signori Vi lascia un like O commento O iscrivervi Se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo Un prossimo episodio Di questa ignorante challenge E Il prossimo episodio Ci sarà sul canale Di Zaghi94 Trovate il link In descrizione Trovate il link Anche sotto La vostra scrivania Ci vediamo Nel prossimo episodio Ci vediamo Anche il prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao ciao